Sì, inizia la nuova stagione, siamo tutti molto carichi, con grande voglia di iniziare questa nuova stagione portandoci dietro l'entusiasmo del finale dello scorso anno e questo sarà uno degli obiettivi, cioè quello di riuscire a essere un tutt'uno con il pubblico, squadra e tutti quelli che gravitano intorno alla famiglia Reier cercheremo di portarci dietro questo entusiasmo, cercherò di fare una bella palacanestro per far divertire il pubblico e questa è una cosa che cercheremo di fare naturalmente nell'obiettivo di vincere più partite possibili siamo riusciti e a confermare giocatori che avevano grande mercato e questi sono stati acquisti in realtà perché siamo riusciti a non farli scappare devo ringraziare perché siamo andati a colpire degli obiettivi che ci eravamo comunque prefissati anche prima del termine della stagione, abbiamo costruito una squadra secondo me equilibrata inserendo giocatori che potessero poi compenetrarsi con quelli che sarebbero rimasti proprio per raggiungere questo modo di giocare detto questo è naturale che noi abbiamo sempre avuto un occhio al settore giovanile e quindi continuiamo a lavorare in questo senso cercando di dare sempre esempi e segnali positivi grazie grazie grazie